La prima conca permanente al mondo fu costruita a Milano nel 1438 su iniziativa di due ingegneri della fabbrica del Duomo. Siamo qui alla conca di Via Renna insieme a Carlo Tognoli, sindaco di Milano dal 1976 all'86, grande conoscitore dei navigli. A che cosa serviva questa conca? Come tutte le conche serviva per eliminare i dislivelli, perché normalmente i navigli venivano realizzati in zone che avevano differenti livelli altimetrici, quindi questo era lo scopo delle conche. Qui abbiamo un residuo di una conca, questa è stata molto rimaneggiata naturalmente, però è una testimonianza importante di quanto allora si faceva e non solo qui naturalmente. Questa conca è stata dedicata a Beatrice d'Este, che era la moglie di Ludovico il Moro. La conca di Via Renna è uno dei manufatti più importanti dei navigli milanesi, i manufatti che ancora rimangono. È un grande patrimonio storico architettonico, ma secondo lei è valorizzato a sufficienza oggi a Milano? Beh, parzialmente valorizzato, nel senso che adesso si sta tentando di renderlo di nuovo navigabile perlomeno ai turisti. È un'esperienza che ho fatto anch'io a fine degli anni 70, inizio anni 80. Avevamo messo un battello che dalla Darsena faceva qualche chilometro. Adesso ci sono ancora i battelli. Proprio un mio nipotino mi ha raccontato del suo giro in battello sul naviglio. Però è ancora una valorizzazione, diciamo così, limitata. potrebbe crescere questa valorizzazione se si realizzasse la ricostruzione di qualche tratto di naviglio. Ecco, ora c'è un'associazione Riaprire i Navigli, preseduta da Roberto Biscardini, che propone la riapertura della fossa interna. Cosa pensa di questo progetto? Secondo lei Milano oggi è pronta? Guardi, dal punto di vista, diciamo così, del consenso, penso di sì, c'è stato un referendum del resto. Dal punto di vista economico-finanziario credo di no, ma non per colpa della città, per la situazione generale che pesa molto anche sul Comune, oltre che naturalmente sul nostro Paese. E quindi bisogna procedere con piccoli passi, anche perché senza i piccoli passi non si fanno i lunghi percorsi. Quindi secondo me bisogna partire con piccole iniziative che diano la dimostrazione che si può fare. Quali potrebbero essere i primi passi, le premesse per la riapertura? La chiusura, la pedonalizzazione del centro storico o il collegamento tra la conca di Via Renna e la Darsena, come proponeva l'architetto Malara? La pedonalizzazione del centro storico è di fatto già in parte attuata. Anch'io ebbi l'occasione di realizzarla dopo il referendum del 1985, chiudendo il centro al traffico privato e aprendo ai mezzi pubblici e ai mezzi di emergenza, come è ovvio. Poi ha avuto diverse vicende, il centro è stato riaperto, poi è stato richiuso. Comunque non mi sembra il problema principale quello. Oggi l'opera più realizzabile è il collegamento della Darsena con questa conca che in prospettivo può portare verso la cerchia dei Navigli, che è poco più in là, in fondo la via conca dei Navigli, via dei Amici in sostanza. Questo sarebbe una prova che appunto le cose si possono fare e qui tra l'altro si potrebbe creare un percorso di tipo turistico ambientale molto interessante. Non solo, su questo c'è già un progetto perché l'architetto Malara ha realizzato un progetto esecutivo. Ne conosco anche il costo, sono circa 3 milioni di euro, quindi abbordabile anche malgrado i tempi grammi che stiamo vivendo e spero che questo possa procedere. Quali potrebbero essere le potenzialità di Milano città d'acqua in un futuro magari non troppo vicino? Beh, naturalmente i corsi d'acqua danno sempre un'immagine positiva di qualunque città, basta vedere le città che hanno grandi fiumi, da Parigi a Roma a Londra. Noi non ce l'abbiamo però i milanesi nel corso della loro storia si erano costruiti i corsi d'acqua e alcuni sono naturali perché sotto il territorio di Milano ci sono tantissimi fiumiciattoli molto importanti che hanno fatto di Milano proprio allora una città crocevia anche perché appunto ci passavano le vie d'acqua. Quindi potrebbe avere un ritorno molto importante dal punto di vista turistico. Dal punto di vista ambientale naturalmente se ci sono dei corsi d'acqua c'è anche una limitazione del traffico privato e spero dell'inquinamento, quindi anche sotto questo profilo sarebbe molto importante. Un'ultima domanda, che cosa sono i navigli milanesi per lei? Ma guardi, intanto ne ho sempre sentito parlare, alcuni ovviamente li ho anche visti ma non ho visto la circa dei navigli perché quando sono nato io era già coperta da parecchi anni. Appartengono alla storia di Milano, chiunque voglia approfondire un po' di storia della nostra città entra nei navigli, non può non entrare perché è fondamentale per la storia economica, per la storia culturale e anche per la storia ambientale di Milano, anche se c'è stato un periodo, non bisogna dimenticarlo, in cui una parte della popolazione invocava la copertura dei navigli per ragioni igienico-sanitarie. Anche questo è un pezzettino di storia proprio dell'inizio del ventesimo secolo. Naturalmente oggi le cose non sarebbero così perché allora il sistema fognario era molto ridotto, oggi invece c'è in tutta la città e quindi non ci sarebbero problemi per i navigli. Sarebbe contento di una riapertura parziale o totale della fossa interna dei navigli milanesi? Ma guardi, come le ho detto, siccome non sono giovane mi accontenterei di un pezzettino intanto perché significherebbe che qualcosa si è fatto.